Si svolgerà venerdì prossimo 12 gennaio a Roseto degli Abruzzi a partire dalle ore 18 e 30 il consiglio comunale straordinario sulla vicenda del taglio della riserva del Borsacchio. Si tratterà di un consiglio aperto al quale sono stati invitati a partecipare anche il presidente della regione Marco Marsilio e tutti i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione. Invitati inoltre il presidente della provincia Camillo D'Angelo, i consiglieri provinciali, i parlamentari eletti in Abruzzo e quindi anche la premier Giorgia Meloni. In quella occasione, spiega il sindaco Mario Nunes, la stise civica chiederà alla regione Abruzzo di tornare indietro e abrogare la riperimetrazione in base alla quale la riserva naturale del Borsacchio è stata ridotta da 1140 ettari a 24,7 ettari. Inoltre chiederà di dare seguito e completare, tempestivamente e senza indugio, l'esame delle osservazioni al piano di assetto naturalistico adottato nel maggio del 2021. Oltre alle azioni politiche poi si chiederà ufficialmente alla presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare la norma approvata a notte tempo dal Consiglio regionale abruzzese dinanzi alla Corte Costituzionale perché, conclude il sindaco, palesemente illegittima in quanto adottata in disprezzo del procedimento dettato dalla legge sulle riserve naturali. Intanto, organizzato dalle associazioni ambientaliste, sempre venerdì 12 gennaio a partire dalle 17.30 si svolgerà un flash mob a Roseto in Piazza della Repubblica dinanzi alla sede del municipio, proprio in occasione del Consiglio Comunale straordinario.